E' buono i segnali con Idilio Max e Larice alle prese, Idilio Max guadagna la corda, Larice attacca subito, passa in vantaggio, in terza posizione intanto c'è Lambert S.A.S. Gradualmente Larice va a rilevare al comando Idilio Max e guida sulla piegata che completa in 15.3 con partenza da fermo, veloce quindi il primo strappo di gara, Larice continua a guidare tre lunghezze avanti a Idilio Max. Fin dietro Lambert S.A.S. che precede Liderbag, intanto il quarto se ne va in 30 secchi, seconda frazione più veloce 14.7, tira via a buon ritmo in questa parte di gara, Larice 600 iniziali in 45.6. Metà della piegata con vantaggio inalterato per il battistrada Larice, qui si appresta a completare anche la curva e il giro iniziale, il giro, il mezzo miglio, un minuto e sette decimi. Il giro di corsa che invece viene completato tra poco all'altezza del chilometro, non cambia nulla, tatticamente tutto in fine indiana, la progressione esterna ora tentata da New Dream Rex che si trascina Nicolgrad, poi anche Liderbag sono invece lontani, Nafrodite e Nuvola registra, il primo chilometro se ne è andato in 1.16.6, natura costante comunque di Larice che continua a dar via sul passo, 15.5 il farziale, si mantiene in seconda posizione Idilio Max che concede sempre quattro lunghezze, mentre all'esterno New Dream Rex cerca di migliorare ulteriormente. 600 alla conclusione e sempre in vantaggio Larice, mentre dalla coda cerca di muovere a grandi falcate Nuvolari di Stra. Nuvolari di Stra avanza, 400 alla conclusione, gran progressione di Nuvolari di Stra che guadagna sensibilmente su tutti, si porta all'altezza di Idilio Max e lo sopra Manza va in seconda posizione a 300 dal palo, intanto Larice comunque guida sempre con buon margine, entra il solitario in retta d'arrivo, Larice in testa a 100 dal palo, inseguito dal solo Nuvolari di Stra. Larice nel finale, controlla la situazione e viene a dominare l'errore di Lambertese a Essenu, Larice di Stra è buon secondo, per il terzo emerge a centropista Litio, 2.31.8, 45 secco a chiudere, Larice in scioltezza, va in testa e non si lascia più avvicinare, quota di 1.70 al totalizzatore. Rivediamo il vittorioso finale di Larice con Matteo Legnani in sediolo, il secondo posto è per un ottimo Nuvolari di Stra che ha recuperato molto nel chilometro finale, al terzo finisce Litio sui problemi di Lambert S.A.S.